La reazione della musica in lingua lenta Voi mostrare come si può suonare su do accordi La maggiore e la maggiore Cominciamo da mi e andiamo a suonare così La maggiore e la maggiore La maggiore e la maggiore La maggiore e la maggiore Dopo si torna in E Però la particolarità Si alterna all'inizio E dopo sulle prime tre corde bisogna avesse Plettrar verso l'alto dunque upstroke La maggiore e la maggiore 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 Andandoci a parlare Fa diesis La maggiore e il ma se potrebbero anche a suonare quei dei, quindi... però il volume è un po' diverso, non c'è preferito provare a suonarlo con il plettro, con la patacca. Vabbè adesso va avanti, quindi già solo per far vedere un po' l'appeggio, dunque al prossimo video.